La vita di più speranza è una vita segnata dalla pace. Qui e d'ora Gesù è risolto e ha prodotto la pienezza della vita. Ricevendo questo annuncio abbiamo sempre dato risposte con la pratica dell'amore e con azioni di ricongigliazione. Abbiamo manifestato frammenti di resurrezione operando per la vita e contro la morte, ma tante volte siamo incapaci di abbandonare.